La piazza La piazza Deve scegliere su 15 mi sembra, 22, 7 punti e alla fine farei un giro per i quartieri e poi ci sarà una conclusione. Allora noi facciamo il tour della città, i vi compresi quartieri ovviamente, come dicevo ci fa piacere stare in mezzo alla gente, quindi il nostro è quello di stare appunto tra la gente. Capire quali sono le loro esigenze, noi vogliamo monitorare il territorio attraverso le esigenze che evidenzia il cittadino. Una volta evidenziate tutte le esigenze chiudiamo con il tour e facciamo lo spoglio e vediamo un po' quali sono le priorità che il cittadino ci ha segnalate. Dopodiché su ogni termine ci sarà un pool di persone che esaminerà caso per caso in base a teme che vengono scelti. Grazie a tutti!